A Cremona fa ripuntati sulle condizioni di degrado in cui versa una parte di piazza Marconi, in particolare a far discutere lo stato degli scavi archeologici collocati nel lato di via Ettore Sacchi. Sotto la vetrata che li protegge sono presenti alcuni reperti dalla notevole importanza culturale, delle rovine romane risalenti al I secolo d.C., un pozzo medievale e la fondazione quattrocentesca della chiesa di San Giorgio. Una vera e propria fotografia della storia della città che, però, oltre ad essere difficilmente visibile per via della sporcizia che investe la vetrata a sua protezione, è in gran parte coperta dalla vegetazione infestante sorta negli ultimi anni. Gli scavi archeologici della Domus sono i pressi della facciata di San Giorgio, che abbiamo qui sotto, dove cresce una rigogliosissima foresta amazzonica grazie a questa specie di serra. Evidentemente il progetto non è stato un buon progetto, perché era ovvio che se io metto un po' di acqua, un po' di umidità e un bel vetro, la vegetazione cresce. E poi, in generale, spiace, perché questa dovrebbe essere una delle piazze più belle della città e più importanti, abbiamo l'uso del violino, è piena di rifiuti, di tutto e più, mozziconi, sigarette, pezzi di plastica, cose indigne. Il vetro sarebbe da lucidare, pulire o addirittura cambiare. Il problema di questi scavi aperti, si capiva già negli anni Ottanta, è che non funzionano, perché il vetro fa l'effetto serra. E poi, provate a immaginare voi a tenere un vetro sotto la pioggia tutto l'anno, la sabbia, il vento, la polvere, quindi qui andrebbe pulito tutti i giorni. Invece qua non viene mai pulito, adesso gli scavi non si vedono più, assolutamente. Tra l'altro poi si è sviluppata una vegetazione di felci, di rove d'amore, con insetti e così via. Molto interessante, io invito assolutamente, mi sta a trattare a studiare questo microcosmo, mi comprende, eccezionale. Bisogna fare uno studio scientifico.